Sì, il nuovo codice dovrà garantire sicuramente un sistema un po' meno farraginoso, ovviamente chissà se con il nuovo codice non possiamo mettere in campo il vero problema che in qualche modo è stato anche evidenziato fino adesso che è il problema della manutenzione del MOSE perché lì l'appalto dovrà essere fatto e dovrà essere fatto come appalto pubblico e lì chissà se non riusciremo a sperimentare le nuove regole.